in questo video troviamo vittorio brumotti un servizio di striscia notizia esclusivo che viene aggredito li puntano in faccia la pistola in una tentata d'aggressione da un cazzo nel video appunto di striscia notizia verlo immediatamente dopo voi ragazzi però iscrivetevi al canale e attivate le campanine delle notifiche per non perdervi assolutamente nessun contenuto esclusivo lancia 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 lancia